Bella ragazzi e benvenuti in questo nuovissimo episodio di Tone Scout all'appuntamento settimanale in cui io vi andrò a far vedere i talenti sconosciuti nelle carriere di Figa di Cassette Partiamo subito con i due talenti che mi avete consigliato nella sezione commenti dello scorso episodio Il primo di questi due è Alberto Cerri che ci è stato consigliato da Davide Cerri doveva essere il talento principale di questo episodio visto che mi chiedete sempre di portare talenti italiani Ma Davide mi ha anticipato sul tempo e ci ha proposto questo giocatore Quindi ho preferito metterlo tra i due giocatori che mi consigliate voi e di basare l'episodio su un altro giocatore Cerri un attaccante alto 1,94 con 20 anni di età Squadra Juventus ma nel primo anno lo troverete in pressione alla SPAL E nazionalità italiana Cerri parte con un overall di 69 la prima stagione vale 1,7 milione E negli attributi fisici spicca solo la forza con 90 Quindi dovrete molto usare il pushback system Quel sistema di controllo palla con le spalle verso l'avversario L'accelerazione è veramente bassa ma d'altronde è alto 1,94 Quindi non possiamo pretendere chissà che Poi la resistenza con 70, l'elevazione con 70 Poi andiamo alla tecnica con 74 di controllo palla Ottimo, 71 di finalizzazione ottimo anche questo Prigione di testa con 72 e potenza tiro con 73 All'inizio della terza stagione senza allenamenti L'elevazione con 74 vale 4,6 milioni Quindi se lo allenate potrebbe diventare veramente un fenomeno Accelerazione con 63, arrivazione con 71 Forza con 97 Quindi veramente potete spaccare le difese con la sua forza Poi la resistenza con 73 Controllo palla con 82 Driven con 69 che migliora di poco Poi finalizzazione 75 Precisione di testa ottimo, 78 Potenza tiro 82 E tiri al volo 80 Giocatore molto molto equilibrato Peccato per la velocità Ma d'altronde è alto 1,94 Sarà un giocatore, un attaccante di sponda Che aiuterà a spondare le difese Comunque ottimo talento Passiamo al prossimo talento Si tratta di Louis Gagnoni Che ci è stato consigliato da Mario Io sono innamorato pazzo di questo giocatore Su FIFA 17 l'ho scoperto in una carriera personale È veramente qualcosa di pazzesco Gagnoni è un terzino sinistro Alto 1,78 Con 21 anni di età Squadra Stade-Brestois Ma lo troverete È in prestia lo Stade-Brestois Perché è di proprietà del Lione Nazionalità francese Gagnoni parte con un oro di 68 Vale 1,2 milioni nella prima stagione Un gioco tra cui molto molto equilibrato Negli attributi fisici Infatti 80 accelerazioni 76 veloce da scatto 71 equilibrio 80 resistenza 72 di forza E 71 agilità Che vanno a completare questi attributi fisici Molto molto equilibrati Poi nel resto spicca solo il controllo palla Con 72 All'inizio della terza stagione Senza allenamenti di evento 72 Ma guardate le statistiche 86 accelerazioni 82 veloce da scatto 72 equilibrio 84 resistenza 72 forza E 73 agilità Poi 71 intercettazioni 77 controllo palla 73 dribbling 71 effetto E 72 cross Un terzino che veramente può andare avanti Dietro Si fa tutta quella fascia Anche un ottimo cross Quindi vi consiglio di usarlo nella vostra carriere E adesso passiamo A lui Il talento principale di questo episodio Un talento cristallino Veramente E' stato il primo giocatore Catariota A trasferirsi in una squadra di Liga BBVA O Santander Da quest'anno Si tratta di Agraf Afif Alto 1,77 Con 19 anni di età Squadra Via Real Ma nel primo anno Lo troverete in prestito Allo Sporting Ion Nazionale Qatar Allora Nella prima stagione Un 69 Vale un milione 3 E negli attributi fisici Molto molto equilibrati Spiccano Agilità Un 83 Accelerazione Un 78 Elevazione Un 74 Velocità Scatto Un 72 Poi passando nella tecnica Spiccano solamente Dream Un 77 Controllo Palla Un 75 Andiamo a vedere Quanto è cresciuto All'inizio della terza stagione Senza allenamenti Cresce molto Perché diventa Un 73 Senza allenamenti Come ho detto prima 3.700 Il suo valore Accelerazione Un 81 Agilità Con 85 Velocità Scatto Un 75 Equilibrio Un 72 Elevazione Un 74 Poi controllo Palla Con 79 Dream Con 83 Cross Con 75 Finalizzazione Con 76 Passaggio Corto Con 71 Che vi devo dire Vedete le statistiche Voi È un giocatore Pazzesco Su quella fascia Veramente Vi troverete Benissimo Io mi ci sono trovato Molto molto bene Perché ha un ottimo Dribbling Ben Mixato Con la sua Velocità Che non è Altissima Per un esterno Ma secondo me È quel che basta Per trovarsi bene Con un esterno Del genere Come pro Gli do Assolutamente Il dribbling È un giocatore Pazzesco Per quanto riguarda Il dribbling Alla prima stagione Non lo fa Tanto notare Questa sua capacità Ma Piano piano Giocandoci Vedrete che È assolutamente Qualcosa fuori dal Comune Perché non rispetta Assolutamente Il suo valore Nel dribbling Nella prima stagione Poi soprattutto Nella terza Con 81 Se non sbaglio Il dribbling 83 Scusate Anzi Vi troverete Assolutamente Benissimo Come contro Come contro Gli do Il fisico La forza Perché Si fa Spostare Molto Molto Facilmente Dagli avversari Per quanto riguarda Tenere il Contrasto Uno contro Uno Con Il terzino Che lo deve Marcare E Questa È L'unica Pecca Di questo Giocatore Perché Veramente Il resto È ottimo E niente Ragazzi Questo Era Akram Afif Questo Era un altro Episodio Di tale scout Mi raccomando Se il video vi è piaciuto Vi invito a lasciare un like Un commento Ad iscrivervi Fatemi sapere nei commenti Se l'avete Già usato Afif Se vi ci siete trovati bene E se non l'avete usato Se avete intenzione di usarlo Consigliatemi anche nei commenti Dei giocatori Mi raccomando Non in lista Perché alcuni di voi Ancora me li consigliano in lista E a questo punto Credo che neanche si guardi Nel video Però ragazzi Mi raccomando Non consigliatemi in lista Consigliatemi solo un giocatore Perché io Mi baserò Su quella scelta Farò una scelta Mirata Perché Se mi fate una lista Vado completamente in confusione Non ritrovo più i commenti Dei giocatori E niente ragazzi Vi invito a lasciare un like Un commento Ad iscrivervi Se il video vi è piaciuto Noi ci vediamo domani Con il video Della carriera Adonatore con il Crotone Bella